Tanti sentono, sentono la musica, sentono un rumore di fondo, ma pochi ascoltano, che c'è una grossa differenza tra sentire e ascoltare. Ascoltare significa interiorizzare, ascoltare significa riflettere, significa sognare. Ecco, questo è il vero tema. Se sei curioso, sogni. Beh, questo non è male, come anche auguri a una persona, quella di sognare il più possibile, poi succede che i sogni in qualche modo diventano anche realtà, forse proprio grazie a questa curiosità. Prima ti facevo vedere un po' alcuni dettagli del basement, a proposito dei dettagli tu parlavi proprio dell'importanza dei dettagli. Io sono convinto che i capolavori sono fatti di dettagli, sono i particolari che fanno la differenza. Quindi fare le cose normali, mediocre, che piacciono tanto le cose mediocre, dice sono nella media, bravissimo, se sei nella media, uno sta nel comfort zone, stando nella media.